Sì, penso sofferta ma alla fine anche meritata. Il Siena ci ha creato diversi problemi, più che altro nello sviluppo del gioco nostro, però credo le occasioni le abbiamo avute e alla fine siamo riusciti a segnare. Sì, l'atteggiamento è sempre quello di stare attenti nella fase difensiva, è sempre stato quello alla fine. È chiaro che il Siena si difendeva e quindi dovevamo stare particolarmente attenti alle loro ripartenze e magari non sbilanciarsi, penso che il Mestini intendesse questo. Poi infatti alla fine quando magari loro si sono un po' disuniti abbiamo avuto le occasioni e siamo riusciti a segnare. Infatti, lo dicevo prima ai vostri colleghi, non ci dimentichiamo che il Napoli senza i due punti di penalizzazione sarebbe a secondo e soprattutto, al di là della classifica che noi non la guardiamo molto, sarebbe a più 8 rispetto all'anno scorso. Più 8 alla diciottesima giornata sono tantissimi punti e quindi credo che la stagione sia positivissima.